28 ottobre la Juventus riceve l'Inter di Trapattoni che torna da avversario a Torino contro la Juventus con la quale ha vinto tantissimo, subito Bianconeri in attacco, Schilaci va giù, calcio di rigore Pezzella non vuole sentire ragioni, Paggio 1-0, Juve in vantaggio al secondo del primo tempo calcio d'angolo, Casiraghi anticipa anche Giulio Cesar va Matteus lo specialista con il destro, la riapre Lothar Matteus al 34esimo al delle Alpi Klinsmann da fuori, Tacconi sopra la traversa, l'Inter c'è Paggio con l'esterno, la palla dentro, cercava il movimento di Schilacel, vuoto lui a vuoto Zenga si salva l'Inter, ancora Juve, Paggio col sinistro, il palo, salva l'Inter e poi Schilaci da terra, 3-1 Paggio se ne va sulla sinistra, alza la testa, se ne dipinto, tocco morbido, De Agostini sul primo palo, 4-1, è un trionfo Juve Io sto giocando bene ma anche la squadra ha dato una grandissima prova oggi, anche io sono facilitato in questo Adesso la parola scudetto ti suggerisce qualcosa? Ma no, direi che è troppo presto, noi dobbiamo così cercare di essere uniti come abbiamo fatto negli ultimi giorni e di lavorare bene Inter in avanti, Klinsmann di prima, sul primo palo, 4-2, l'orgoglio dell'Inter